per questo video raggiungiamo almeno i 500 like visto che mi è costato un botto di lavoro se invece non dovessimo arrivare a 500 like questa tipologia di video non ci saranno più sul canale mi limiterò semplicemente a registrare le mie corsettine o eccoci qua con un video direi abbastanza importante perché oggi vi mostro la mia ultima creazione relativa a quei circuiti che vi fanno vincere davvero un botto di punti maestria cosiddette skill e anche punti esperienza davvero tanti mentre gli youtuberoni quelli famosi che ricevono tanti like a differenza del sottoscritto vi propongono ancora il metodo per fare una corsettina dal punto a al punto b che vi obbliga a riavviarla in continuazione se la riavviate non guadagnate neanche punti esperienza tra parentesi guadagnate solamente i punti maestria vi dicono che dura solo 27 secondi ma non vi dicono tutto il tempo necessario per avviarla e poi aspettare la premiazione alla fine tutto quanto mentre io ho passato circa 6 7 giorni per realizzare questa difficilissimo questo difficilissimo tracciato perché niente di difficile si corre lungo l'autostrada ma fargli fare le inversioni a inizio alla fine perché si tratta di un loop quindi possiamo fare un numero infinito di giri volendo è stato difficile dare la giusta traccia perché l'intelligenza artificiale che dovrebbe seguirla è davvero molto imprevedibile diciamo così non stupido è imprevedibile tante volte la fa bene ma dopo 10 giri arriva l'undicesimo fa la cazzata e ti sputtana la gara e di conseguenza io che sono molto pignolo e voglio fare le cose fatte per bene anche dopo tanti tentativi andati a buon fine un tentativo fallito cancellavo il circuito perché purtroppo sti bastardi di programmatori non hanno inserito la possibilità di fare le modifiche agli editor quindi tu realizzi la tua bellissima traccia il tuo bellissimo circuito ti accorgi che c'è un problema o addirittura ci sono dei checkpoint che non funzionano tu ci passi in mezzo e ti dicono che non ci sei passato non puoi modificare la gara no devi prendere buttare tutto e rifare tutto da capo questo mi ha portato a superare addirittura le 50 tracce ho fatto 50 tracce poi perso il conto perché non ho troppo da tenere a mente ogni volta ci si impiegano in circa due ore giù di lì e quindi immaginatevi quante ore ho perso le prime le facevo belle mettevo anche oggetti estetici mettevo anche indistruggibili che ti portano in un sacco di tempo alla fine invece mi sono ridotto a fare solo l'essenziale è una gara afk per chi non sapesse che cos'è afk fk è quel nome che si pronuncia nel momento in cui si avverti i propri compagni di gioco online che il personaggio è all'interno del gioco ma noi siamo magari al cesso a fare la pipì ad esempio quindi si rimane attivi ma non si è realmente davanti al pc questo tipologia di gare ti permette di correre senza fare niente devi solo mettere un elastico sul grilletto del del pad io metto un pezzo di scotch sulla tastiera accelerare e poi la macchina farà tutto da solo seguirà la strada sterzerà frenerà farà tutto da solo se il tracciato è fatto bene avete visto nel video precedente dove mostravo i super tracciati apprezzati da tutta la community di horizon 5 quante cagate avessero che andavano a inficiare l'utilità della partita facciamo un chiarimento perché è una cosa che mi sta parecchio sul culo il metodo afk non è un glitch ci sono gli youtuber quelli quelli che fanno tanti numeri anche gli sfigatelli che scopiazzano come dei non so che cosa che scrivono glitch afk vi fanno credere che un glitch iscrivono oltretutto afk dopo patch come se in qualche modo fosse stato patchato e hanno già trovato il modo per rimettere questo f ma vi prendono per il culo e voi siete così stupidi che date retta a seguito a questi personaggi gli mettete una marea di like la fk è un metodo voluto dai programmatori hanno inserito la possibilità di impostare la difficoltà di gioco su estremamente facili dove la macchina fa il 99 per cento tutto da solo noi dobbiamo solo accelerare quindi non è un glitch tutti quei youtuber che scrivono glitch vi stanno prendendo per il culo per fare visual non è un glitch non può essere patchato e ogni giorno quasi a cadenza giornaliera sfornano nuovo fk in realtà vi stanno solamente cambiando un tracciato basta è sempre la stessa solfa io mi domando com'è possibile che vi lasciate prendere per il culo così capisco che molti di voi sono dei bambini ma poi quando diventerete grandi vi lascerete prendere per il culo dai politici dai mass media e ora anche dai medici vediamo un pochettino cosa sta succedendo in italia ormai da due anni e mezzo quindi non siate idioti non bevetevi ogni scemenza che gli influencer vi raccontano dubitate mettete sempre in dubbio quello che vi viene proposto chiusa questa parentesi del metodo fk vi faccio vedere subito come si imposta noi andiamo in difficoltà lo possiamo fare sia a inizio gara o come vi sto facendo vedere adesso da questo menu invece di mettere come ho io adesso frenata antibloccaggio simulazioni disattivato e via dicendo mettiamo tutto su automatico quindi andiamo su frenata mettiamo assistita vedete che poi ci abbassano anche le speri i crediti che prendiamo dalla difficoltà di gioco sterzata non mettiamo simulativo standard ma mettiamo assistita anzi lo mettiamo automatica sterzerà da solo aiutiamo poi la macchina non sbandare e quindi mettiamo controllo trazione stabilità cambio ovviamente deve cambiare da sola quindi mettiamo automatico e anche mi sembra che sia abbastanza importante la traiettoria perché la macchina seguirà la traiettoria non so se fa differenza vederla non vederla però vabbè già ne ci siete mettete su completa quindi il metodo fk non è altro che 1 2 3 4 5 voci messe su automatico addirittura potete andare anche nella mappa libra impostare un punto vi crea la traccia voi accelerate la macchina la segue come quindi come vedete non è un glitch non è una chissà quale strategia tirata fuori da chissà quale hacker è una funzione di gioco motivo per cui non si può neanche essere bannati c'era un po di tempo fa uno che è venuto a farmi due maroni così sotto il canale dicendomi che si viene bannati per questo per quello per quell'altro quindi questo è il modo in cui dovete impostare la difficoltà di gioco quando volete affrontare le gare fk poi sarà sufficiente tenere cliccato il pulsante acceleratore la macchina farà tutto da solo ok abbiamo visto questo aspetto io direi adesso vediamo un pochettino si adesso salva pure salviamo pure diamo pochettino a vedere quali sono queste mappe che vi ho creato andiamo su io vi consiglio mettetevi seguite le mie le mie creazioni diciamo così non so come si chiama il centro creazioni se non sbaglio tra le varie cose noterete queste due nuove attualmente nuove gare si chiamano automatica a fk 20 minuti versione 1.0 perché la prima versione che ho fatto e poi ne ho creata una più lunga da 40 minuti ho messo la versione perché nonostante ci abbia lavorato quasi sette giorni per arrivare a questo risultato ma vi ho detto che non si possono modificare i tracciati ci sono ancora dei piccoli difettucci che possono magari inficiare la qualità di gioco devo dire che con tutti i test che ho fatti davvero tanti ho girato 20 giri con questa e mi sembra altri 20 qua su 40 giri non c'è mai 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 stato un problema però se guardate in questo punto del del gioco questo punto il circuito quando la macchina fa questa curva guardate va proprio al pelo al pelo al muretto e potrebbe darsi che magari per qualche chissà quale motivo prima o poi lo prenda ancora peggio di questa volta rischiando di andare a sbattere sullo spigolo e quindi bloccando la macchina non potendo più procedere diciamo che questa è stata la volta peggiore che ho notato mi è successo poi con la lambo fe che è troppo potente diciamo così sempre nello stesso punto si è quasi incastrata tra i due muretti si è un po' bloccata poi più è riuscita a ripartire ed è andata da sola quindi io ho ritenuto questi circuiti diciamo pubblicabili perché di fatto nei tantissimi giri e nelle varie ore in cui l'ho testato non c'è mai 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 stato un problema però non posso escludere che per qualche motivo qualche rarissima volta potrebbe anche accadere motivo per cui quando riuscirò a fare un'altra gara da capo o se inseriranno la possibilità di modificare i circuiti vedrete sempre un altro circuito non perché non posso non posso sovrascrivere questi questa è un'altra cazzata nonostante ci sia scritta la possibilità di sovrascrivere in realtà non te li fa sovrascrivere te ne crea lo stesso un altro comunque sia voi cercate all'interno dei miei tracciati condivisi cercate sempre automatica e vedrete magari un v1.1 o 2.0 se sarà molto diversa comunque prendete questo versione 1.0 come riferimento la più il numero più grande sarà quella più attuale e quella che vi darà il maggior beneficio vediamo un pochettino i codici perché adesso vi piacciono tanto questi codici di condivisione perché non mi mostra subito ok 177 017 024 per quella da 20 minuti mentre per quella da 40 minuti 630 169 065 però io vi consiglio come ho detto pochi secondi fa di cercare automatica all'interno dei miei track condivisi così troverete anche quelli più aggiornati i tempi 20 minuti si riferiscono alla pagani force edition che è la migliore per ottenere più skill possibili se lo fate con la lambo scende più o meno sui 16 minuti e qualcosa questa da 20 e questa qua altri 8 minuti in meno si possono utilizzare solo questi due queste due automobili perché di fatto io ho realizzato il progetto inizialmente sulla lambo mi sono accorto che la forza edition del pagani aveva un atteggiamento molto diverso soprattutto trazione posteriore mi dava dei problemi che la lambo non aveva allora ho preferito realizzare il progetto su una macchina più difficoltosa in modo che questa che in qualche modo si comportava meglio avesse poi meno problemi ciò nonostante sono stato obbligato trasformare la pagani in trazione integrale quindi io vi consiglio caldamente se volete utilizzare la pagani che è la migliore auto per questo circuito perché vi darà un botto di skill dopo vediamo anche la differenza di scaricarvi il mio assetto l'assetto che ho fatto io per automatica vedete questo qui si chiama per automatica che è di fatto il circuito che ho realizzato vediamo un pochettino mi dice il numero di condivisione non ricordo come si fa a vedere il numero della condivisione devo forse andare in centro creativo che casino questo numero della condivisione e che se poi non lo dico voi vi lamentate perché lo volete questo cazzo di numerino eccolo qua p dovrebbe essere questo fatemi controllare un attimo della pagani per automatica eccolo qua 151 272 372 perché questo assetto questo assetto mi dà la possibilità di prima di tutto avere la macchina a trazione integrale ma quello è abbastanza facile ma più che altro mi rende la macchina meno cattiva e meno nervosa ai bassi regimi perché nelle curve a gomito soprattutto quello che abbiamo visto poco fa vicino al muretto la macchina addirittura tendeva andare in sovrasterzo nonostante il controllo di trazione di stabilità faceva lo stesso quel difetto sono quindi stato obbligato può modificare il circuito e un po ad abbassare la violenza con cui scaricava i cavalli ai regimi con le marce basse quindi è diventata un po più docile ai livelli bassi mentre gli ho dato tantissima velocità il massimo che sono riuscito a fare vedete 410 chilometri orari per i rettilini perché di fatto il 99 per cento della corsa si sviluppa in un rettilineo e direi che come il risultato non è affatto male quindi se volete utilizzare la pagani la pagani effe che è l'auto che vi consiglio scaricatevi questo assetto allora vediamo un pochettino di dati informazioni concrete fondamentalmente facendo una tratta per tratta intendo un una corsa lungo l'autostrada ci facciamo dalle 6 alle 7 ruote punti maestria io tante volte le chiamo ruote perché vengono rappresentate da una ruota di automobile 6 7 alcune volte me ne fa anche 8 non riesco capire da cosa dipenda questa continua differenza il circuito che avevo fatto precedentemente addirittura ne facevo quasi sempre 7 8 era un attimo meglio devo vedere un pochettino il perché quindi a giro possiamo fare dalle 13 alle 14 punti maestria moltiplicato per 5 giri sono 65 barra 70 punti maestria davvero tanta roba come vedete qui l'ho finita in 19 59 secondi quindi meno di 20 minuti questo era già l'assetto migliorato perché precedentemente con l'assetto che avevo prima facevo due minuti e dieci più o meno quindi ho risicchiato un 11 secondi vediamo un pochettino che ci facciamo anche una discreta quantità di punti esperienza assolutamente da non sottovalutare quasi 46 mila punti in questo caso quindi tanta roba guardate ho preso due livelli se non sbaglio da 98 a 100 ovviamente quando superiamo un livello ci dà una ruota infatti sarebbe l'ideale sarebbe fare ottimizzare per chi è di basso livello fare pochi giri in modo da girare più facilmente le ruote invece chi è livello più alto deve fare molti più punti esperienza per poter girare una ruota quindi sarebbe anche da scegliere sotto questo aspetto ma diventa un po complicato altri due conti ovviamente poi queste ruote ci servono per poter comprare come sappiamo già immagino le macchine che ci regalano facilmente le ruote possiamo andare sulla porsche che costa un po di più quindi se siete all'inizio magari potrebbe essere un po più difficile spendere 80 mila crediti per la porsche in alternativa abbiamo la pontiac che è questa qui eccola qua si è appena sopra la porsche quindi anche comodissimi da scegliere questa costa mi sembra 25 mila vediamo 25 mila ne acquisto una dovrei già averne se non sbaglio in alternativa andiamo sulla porsche questa qui che ci costa 80 mila ne prendiamo una saliamo a bordo credo che siamo obbligati a salire a bordo su ogni macchina non so se esiste un altro mezzo sarebbe una figata perché è una rotta di palle salire nella macchina bisogna poi perdere tempo e questa qui purtroppo l'avevo già fatta non gli ho dato la spunta del cuoricino per capire che l'avevo già fatta con uno due tre sei nove più cinque quindi quattordici punti maestria ci becchiamo una super ruota adesso a questo gli metto aggiungo ai preferiti così so che l'ho già spulciata se invece ci possiamo comprare facilmente perché i soldi ce lo permettono la porsche tipo questa saliamo a bordo messa a punto maestria dell'auto ecco qui che andiamo a spendere 1 2 3 6 e poi abbiamo la possibilità di sbloccare sia la super ruota con altri cinque punti o la singola ruota che ci costa tre punti quindi 6 siamo a 9 con questa più 5 fa di nuovo 14 come vedete qua spendiamo gli stessi punti maestria però otteniamo una ruotina in più dovete valutare se avete tanti soldi puntate su questa altrimenti andate sulla pontiac in pratica facendoci un 5 giri quindi la gara da 20 minuti di automatica se ci va bene ci facciamo 70 una volta fatto anche 71 punti ci possiamo sbloccare 5 porsche quindi avremo 5 super ruote e 5 ruote io direi che non è assolutamente male immaginatevi quanti soldi e quante macchine potete trovare se invece ci va maluccio che facciamo solamente 64 65 punti maestria bene apriremo diciamo 4,6 ecco super giù non cambierà molto bene io direi che abbiamo visto un po tutto non credo di aver dimenticato nulla ora finalmente avete delle dei circuiti che vi permettono realmente di fare ciò che viene promesso credo che sia il circuito più ottimizzato poi fatemi sapere se voi avete provato un qualcosa di meglio meglio di questa che viene domanda Grazie.